buongiorno a tutti oggi domenica siamo fatti il nostro consueto caffettino stiamo facendo colazione stiamo svegliati sono le nove Nicchio è già uscito a farsi il suo giretto qui è tutto deserto vedete non c'è un'anima viva in questo punto qua dove stanotte ho fatto la grigliata adesso ci mettiamo a fare colazione a più tardi Nic saluta gli amici hai fatto papà? bravo guardate il mio cane prende il sole beato sembra una sfinge egizia scherzi a parte lui qua sta bene perché è libero può girare non gli devo stare tanto dietro perché non essendoci nessuno qui lui può girare tranquillo senza quinzaglio senza niente soltanto che poi domani dovremo andare via e va bene vi auguro una buona domenica e direzione non claro vi auguro una buona domenica staggia